Tutto dipende dall'intendere il vero non solo come sostanza ma anche come soggetto. Così scrive Hegel nella prefazione alla fenomenologia dello spirito specificando la propria concezione dialettica del vero. Il vero non corrisponde per Hegel alla pratica dell'accertamento con cui si rispecchia in maniera esatta una realtà oggettiva data e pensata come indipendente rispetto a noi. Il vero corrisponde invece per Hegel a un processo ed è quindi un risultato implicante l'uscita fuori da sé e il recupero dell'alienazione. È un processo che ha al proprio interno come momento stesso della verità l'errore, la negazione e il superamento poi dell'errore stesso. È un processo che implica come Hegel dice l'alienazione e la sua restituzione. Ecco allora l'importanza di pensare il vero non soltanto come sostanza, ciò che per primo in maniera chiara fece Spinoza il grande precursore dell'idealismo classico tedesco, ma occorre pensare anche la sostanza come soggetto, ciò che ancora mancava in Spinoza. Pensare la sostanza come soggetto per Hegel significa pensare la sostanza come processo storico di autocoscienza acquisita da parte del soggetto. Il processo storico filosofico si risolve so stesso mediante le figure, le Gestaltungen, che animano la fenomenologia dello spirito, in un processo mediante il quale il soggetto acquista coscienza di sé del mondo oggettivo, addivenendo alla piena consapevolezza che quel mondo oggettivo che a tutta prima appariva totalmente altro e opposto rispetto al soggetto, in realtà coincide con il soggetto stesso. La sostanza è soggetto, il mondo oggettivo corrisponde a quello soggettivo e questo il codice dell'identità soggetto e oggetto, culmine di uno spirito finalmente pervenuto alla piena autocoscienza. Ecco perché, dice Hegel, occorre pensare la sostanza anche come soggetto, cioè come processo, come risultato in forza del quale il soggetto arriva a comprendere che il mondo oggettivo non è altro, non è indipendente dal soggetto, ma è il soggetto stesso pensato come soggetto e come oggetto, come identità nell'opposizione di soggetto e oggetto. Ecco perché ancora con Hegel occorre rovesciare il modo di pensare comune che intende soggetto e oggetto come poli antitetici di una relazione e in luogo di questa concezione errata e fuorviante occorre far valere la posizione dialettica che pensa soggetto e oggetto come dialetticamente mediati. Non si dà oggetto se non mediante il soggetto e non si dà soggetto se non mediante l'oggetto. I due poli sono poli di una relazione dialettica di mediazione reciproca. Ecco allora che il processo di autoacquisizione di coscienza da parte dello spirito e dell'umanità, mediante le figure in cui si articola la fenomenologia dello spirito, corrisponde al processo con cui l'umanità e lo spirito giungono alla piena, lucida, trasparente coscienza della coincidenza tra soggetto e oggetto. Lo spirito come unità di soggetto e oggetto in cui le differenze non spariscono, a differenza del modo in cui Schelling inadeguatamente per Hegel concepisce l'assoluto, la notte in cui tutte le vacche sono nere, ma in cui le differenze invece, dice Hegel, vengono conservate. La negazione è momento fondamentale del processo. L'errore fa parte del processo stesso con cui si perviene alla verità. I negati non spariscono nella notte in cui tutte le vacche sono nere, ma sono conservati come negati nel processo stesso con cui lo spirito giunge a sé.